Ebbene, questo è il figlio della fortuna, un giorno sarà re di Corinto. Addio padre, addio madre. Ehi ragazzo, cosa succede? Che succede da queste parti? Perché tutta questa gente se ne va dalla sua città? Che succede da queste parti? Ridacci un'altra volta la vita! Bada! Bada! È un giorno, vedrai solo oscurità. Togliti di mezzo alla strada! Il popolo e il potere sono tutti dalla mia parte, tu non hai niente in mano! Questa, ecco, è la nostra sorte.